Ciao, io sono Yamili e in questo video tratterò le curiosità su Pretty Cure, ma in particolare i compleanni parte 1. Sigla! In questi video avrò gli occhiali, nel caso mai mi dimenticassi di cosa devo dirvi, lo potrò leggere. Iniziamo! Le Match Heart Pretty Cure abbiamo Cure Black il 10 ottobre, Cure White il 4 aprile e Shiny Luminous il 9 settembre. Delle Splash Stars abbiamo Cure Bloom il 7 agosto, Cure Regretti il 20 novembre. Di Yes Pretty Cure 5 Go Go abbiamo Cure Dream l'8 novembre e Cure Meat il 10 marzo. Le altre, perciò Cure Rouge, Cure Lemonade, Cure Acqua e Milky Rose non si conoscono. Così come quelli delle Frish Pretty Cure. Poi abbiamo le Archec Pretty Cure. Cure Marine 26 maggio, Cure Sunshine 15 aprile, Cure Moonlight 19 maggio. Anche di loro, l'unica che non si conosce è quella di Cure Blossom. Poi abbiamo le Sweet. Di loro si conosce solo quello di Cure Rhythmure, che è il 25 maggio. Così come quelle delle Smile non si conoscono. Per finire abbiamo quelle delle Doki Doki Pretty Cure. Cure Heart il 4 agosto, Cure Diamond il 17 settembre, Cure Rosetta il 28 maggio, Cure Sword il 4 novembre e Cure Ace il 1 dicembre. Se vi è piaciuto questo tipo di video e volete la seconda parte con le Pretty Cure mancanti, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per supportare questo tipo di video. Alla prossima! Bye bye!